Un'indagine brillante e una storia che potrebbe essere uscita da una serie televisiva. Si era fatto una nuova vita e una nuova identità in Venezuela a Roberto Vivaldi, ma a tradirlo è stata la sua passione per la musica, più precisamente per i dischi in vinile. L'uomo, 69 anni, spezzino, era ricercato dal 1997, inserito nella lista di massima pericolosità, condannato a 20 anni, 10 mesi di reclusione per reati associativi e contro il patrimonio. Vivaldi viveva in Venezuela da 22 anni, a Isola Margherita. Aveva aperto un negozio di dischi e li vendeva anche online. Gli investigatori dello SCOE della squadra mobile di Prato lo hanno localizzato studiando il web e i suoi profili social. Poi, con un'indagine sotto copertura, lo hanno incastrato. Ecco com'è andata. I poliziotti si sono finti clienti, hanno comprato dei vinili dal suo negozio online e se li sono fatti spedire a un indirizzo fittizio a Roma. Qua è entrata in gioco la polizia scientifica che ha rilevato le impronte digitali sui dischi e ha confermato che si trattava proprio del ricercato. A quel punto, un investigatore sotto copertura lo ha contattato, è entrato in confidenza con lui, è riuscito a fissare un appuntamento lasciandogli credere di essere interessato a emigrare nell'isola per avviare un'attività turistica. All'appuntamento, però, si sono presentati i poliziotti venezuelani che gli hanno messo le manette ai polsi. Si tratta di operazioni nell'ambito di un progetto Wanted della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato che negli anni ha già messo fine alla latitanza di molti ricercati internazionali.